è una valeria, io non ne posso fissare, dovete prendere, non ne posso fissare, ma si è fatta la volontà del cibo, mettete, andate a che ci piante, con questi, andate a ci piante, hanno sempre ragione loro, e non spingete, a chi è stato qua, non spingete perché non è il caso, qua dentro non fanno altro che spiacere, fanno di tutta erba un fascio, non spingete, perché io sono un calanzuogo e non mi fa piacere di essere qui, me ne vado qui, infatti, tranquillo, trattano tutti alla stessa maniera, alla stessa stregua, sia il delinquente che il calanduore, che succede, meglio calanduore, a un certo punto si ribella, quando è brutale a ribellione, a me, sto parlando, e lui parla da solo, e si parla solo, arriva a un certo punto e si parla solo, stiamo finendo, Allora, quando quello si riferisce, allora, ingalera, e finisce male, ho finito, ma voi chi siete, che fate qua? Qua lo ricompagno i miei, i miei compagni tanti, siamo nuti perché dobbiamo parlare con il delegato che ci deve mortificare per via di un conto che non abbiamo potuto pagare, E allora, tra si dovete, una volta ho detto, quando sarà il momento, sarete chiamati, ma io sono infermo, si, 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 non c'è bisogno di fare indagini, si vede, si vede, si, 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 si può credere a vista, Vorrei avere, perlomeno, un'accevolazione, ecco, come c'è stato lo stanzone, viene l'incendio che deve essere ricevuto, vorrei la precedenza, mi fate un piacere, quando vi trovo dalle tante, ci fate chiamare, va bene, va bene, quelli ci mortificano e ce l'ho andato, va bene, e non spingete, ma chi va stato qua? No, 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 precedo il gesto, ah, sì, perché se voi sei stato così, vuol dire, dimmi, presso, va bene, va bene, va bene, va bene, e non vi arricciate il baffo, Sì, perché, perché noi siamo napoletani, ci capiamo, io so che significa l'arricciatine di baffo, e che significa, 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 non si, dove non l'averea, è un pregiunto,